che miglioriamo partita dopo partita questo è il nome ok vado a ripartare vado a tutti in cerchio in cerchio stringi stringi allora raga mi raccomando oggi bisogna solo vincere ma soprattutto attenti al pallone che schizza i passaggi di qualunque cosa quindi mi raccomando da oggi dobbiamo ripartire pronti? 1, 2, 3 vincere il cassetto e il bravo dai bagno